Torna il terzo festival dell'Arosticino e Formaggio Fritto, vicino a me l'organizzatore Palmarino di Pancrazio. Palmarino, come sarà organizzato l'evento quest'anno? Quindi il terzo festival dell'Arosticino e Formaggio Fritto, dove proporremo i nostri prodotti, tutta produzione propria, chilometro zero, nella nostra azienda, dove allietteranno le serate dalla prima in Regina, la cover band dei Queen, la seconda sera del 27 Angelo Famao, il 28 Pierpaolo del Grande Fratello, sold out, sold out, sold out è la parola grossa di questi periodi, e il 29 agosto i tequila. I prodotti presentati alla manifestazione saranno la pecora alla gallara, arrosticini appunto, formaggio fritto e formaggio fritto al tartufo, sempre in nostra produzione, salsiccia, accompagnate da birre artigianali e bollicina. Anche quest'anno la beneficenza non manca? Assolutamente, infatti quest'anno abbiamo preparato un consistente numero di buoni spesa che abbiamo consegnato appunto al Sindaco, che consegnerà alle famiglie bisognose buoni spesa che verranno spesi nella nostra azienda, quindi quello che noi produciamo. Sindaco, anche quest'anno ha patrocinato il terzo festival dell'Arosticino e del formaggio fritto, qui a Piancarani. Una quattro giorni che vede la valorizzazione del territorio, tanti big e soprattutto prodotti tipici locali. Esattamente, come amministrazione comunale siamo molto sensibili agli eventi che vengono organizzati qui sul nostro territorio e quindi anche quest'anno, per il terzo anno, l'azienda agricola di Pancrazio organizza questo bellissimo festival, alla chiusura della stagione estiva e con grande sostegno l'amministrazione comunale comunque cerca di promuovere e stare a fianco di tutti coloro che hanno voglia di promuovere il territorio, sia da un punto di vista ambientale, perché è una location che si presta particolarmente, sia da un punto di vista di valorizzazione dei prodotti tipici. Che valore aggiunto hanno queste aziende come l'azienda agricola di Pancrazio nel territorio? Sono fondamentali perché, al di là dell'aspetto lavorativo, permettono di mantenere viva quelle che sono le tradizioni del nostro territorio. Fanno sacrifici quotidiani perché oggi non è facile avere un'attività, specie un'attività agricola, ma proprio con l'esempio, con il sacrificio che tutta la famiglia di Pancrazio ha sempre fatto negli anni, si sta portando avanti una tradizione molto importante che permette a tutti noi di degustare i loro buonissimi prodotti.